Non aver preso gol in partita penso sia una cosa positiva per tutta la squadra. La partita è stata un po' difficile, sapevamo che l'ora era una bella squadra, sono un paio di anni che fanno bene e anche oggi si è visto. Penso che comunque noi abbiamo tenuto il campo bene e abbiamo concesso poco agli avversari. Peccato per i rigori che non potevano andare meglio. Rientrare è stato bello, dopo gli amichevoli perché l'ultima partita che ho fatto erano gli amichevoli, sicuramente una cosa positiva. Mi metto sempre a disposizione del ministro e poi gli farà le scelte. Sicuramente io sto bene e penso di starci tranquillamente. Ci aspetta una reazione da parte della squadra. Comunque col Suorenzo è stata una partita giocata anche bene, un po' sfortunata negli episodi, però sicuramente magari il risultato di aver perso non era quello giusto. Col Padova penso sia stata una sconfitta giusta e adesso arriva il Lumezzane in casa nostra e dobbiamo per la prima volta quest'anno far felici i nostri tifosi. Sicuramente le sconfitte non fanno bene, però ci siamo passati anche l'anno scorso, tanti di noi erano qui anche l'anno scorso. Penso che la forza del nostro gruppo è quella di mantenere difficoltà a riunirsi e tirar fuori qualcosa in più. Grazie a tutti.